La famiglia, quindi questa seconda vittoria conferma che è importante la lotta in questo paese per i diritti dei nostri figli. Ma sicuramente ci saranno, ci hanno contattato molte coppie di italiane e italiane all'estero e quindi questo caso apre un precedente molto importante. Siamo qui ovviamente per goderci la città e la famiglia. Il primo caso in Italia in cui consegniamo, essendo il primo l'ho voluto fare con la mia firma, il certificato con cui risulta che Ruben è iscritto nel registro dell'anagrafe del comune di Napoli. Diritti pieni a un bambino, ogni bambino ha diritto ai medesimi diritti di ogni bambino e poi una grande battaglia umana, giuridica, morale, istituzionale, amministrativa. Due donne che hanno coronato un sogno e che questo sogno poi si tramuta in pienezza di diritti nella città di Napoli è una cosa che mi riempie di orgoglio da napoletano e chiaramente anche da sindaco.